Richard Benke, 42 anni. Proprietario di molte società con la sorella Emily Benke. Sposato? Sposato, vedovo. Ora della morte? Dacci tempo, Alex. In casa non ci sono tracce di sangue. Il che è strano perché il corpo è stato trasportato qui. Un omicidio premeditato. Dove è morto? Non lontano da questa casa, ritengo. Ma sarò più preciso dopo i sopralluoghi. Dove è morto? Grazie a tutti.